3 alimenti antinfiammatori La curcuma, la curcuma è considerata un superfood, antinfiammatorio per eccellenza, utile anche in caso di artrite e artrosi, ha inoltre proprietà antiossidanti, immunostimolanti e antitumorali. L'olio extravergine d'oliva è un vero alleato del nostro benessere, favorisce l'abbassamento del colesterolo cattivo e l'inalzamento di quello buono, consumo al crudo per preservare tutte le sue proprietà. I frutti di bosco, le bacchiane preziosi antiossidanti noti come i polifenoli, aiutano a neutralizzare i radicali liberi e la risposta infiammatoria del tuo corpo. I polifenoli sono anche gli antiossidanti naturali del corpo.